Salve a tutti, sono Andrea e volevo portare la mia testimonianza per l'avvenuta guarigione e per il successo che ho avuto col metodo che ho intrapreso. A questo metodo sono arrivato perché comunque nonostante delle cure sia a livello farmacologico sia a livello alimentare non riuscivo a risolvere. Amo un fortissimo reflusso, con dei fortissimi mal di gola, otiti, afte e conti nel bocca, problemi anche a parlare per lunghi periodi, di forti dolori a livello del torace, difficoltà respiratorie, puncicata a livello del cuore, una forte anche d'agricardia e non riuscivo fondamentalmente a digerire, e non riuscivo a mangiare più nulla. Dopo mesi di sofferenza ho deciso di intraprendere il metodo trabucco e devo dire che i risultati sono cominciati ad arrivare piano piano, sin da subito, però ci vuole molta, ma molta costanza e molta, ma molta pazienza. Attualmente sono tre mesi e mezzo che ho intrapreso il percorso e ho staccato finalmente da un mese tutti i farmaci. Prendo solamente attualmente degli estratti di malva e camomilla e riesco a rimangiare praticamente tutto. Il percorso ancora non è finito, ma devo dire che ho ottenuto dei risultati impensabili da parte mia e ringrazio la dottoressa e il tutto suo staff per la disponibilità in tutto quello che mi hanno dato in questi mesi. ho ripetuto la fiducia a me stesso ed è cambiata completamente la mia vita.